Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a migliore prese inglese. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Q-Mobile. Q-Mobile 2X adattatore da viaggio, grazie al pratico e maneggevole adattatore universale da spina europea a presa inglese di tipo G, l'adattatore è super facile da usare, basta collegare l'adattatore tra la presa elettrica, con l'adattatore di tipo GDQ Mobile. È possibile ricaricare il telefono o utilizzare in tutto il mondo asciugacapelli o altri dispositivi con spina scuco UE a due poli. L'adattatore da spina elettrica a due poli a presa a tre poli a un fusibile da 13 a fino a max. 3.250 Watt. L'adattatore da viaggio da presa elettrica a tre pina a presa a due pina a un fusibile da 13 a fino a un massimo. Di 3.250 Watt. 3.250 Watt. La spina da viaggio non è un convertitore di tensione. Si prega di notare che il dispositivo deve supportare 110-240 Watt. L'adattatore non è adatto all'uso di dispositivi ad alta potenza come piastre per capelli o a ricette. 4. Adattatore da viaggio. Questo adattatore salvaspazio è facile da trasportare e particolarmente comodo per i viaggi e per i dispositivi multipli. funziona senza problemi in circa 180 paesi del mondo come UE, CN, USA, UA ecc. L'adattatore è ottimo per la compatibilità. Può essere utilizzato con diversi dispositivi mobili e tensioni da 100 W a 250 W. È realizzato in PC ritardante di fiamma di alta qualità ed è altamente resistente alle temperature e non cambia colore. La garanzia di 12 mesi garantisce la vostra soddisfazione. Questo adattatore da viaggio è particolarmente comodo per chi viaggia spesso o possiede più dispositivi. Può essere utilizzato in circa 180 paesi del mondo, tra cui UE, CN, USA e UA. L'adattatore è ottimo anche per la compatibilità. Può essere utilizzato con diversi dispositivi mobili e tensioni da 100 W a 250 W. Terzo posto c'è Extrastar adattatore. Questo adattatore da viaggio universale è un must per ogni viaggiatore. È dotato di 4 adattatori internazionali che consentono di ricaricare i dispositivi in oltre 150 paesi del mondo. È sufficiente inserire i poli dell'adattatore in una presa di corrente e collegare il cavo di ricarica del dispositivo all'adattatore. Il design compatto lo rende perfetto per l'uso a casa e in viaggio e si adatta facilmente ai bagagli o alle borse. L'adattatore universale da viaggio Extrastar è un must-have per ogni viaggiatore. È dotato di 4 adattatori internazionali che consentono di ricaricare i dispositivi in oltre 150 paesi del mondo. È sufficiente collegare i poli dell'adattatore a una presa di corrente e il cavo di ricarica del dispositivo all'adattatore. Numero 2. Q-Mobile 2X. Questo adattatore da viaggio Q-Mobile 2X è perfetto per ricaricare i dispositivi durante le vacanze nel Regno Unito. L'adattatore ha un pratico design universale che gli consente di funzionare con le prese di tipo G inglesi. È facile da usare, basta collegare l'adattatore tra la presa elettrica e il dispositivo e il gioco è fatto. L'adattatore è inoltre dotato di una spina Scuco UE a due pin, che lo rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Questo adattatore da viaggio Q-Mobile 2X è perfetto per ricaricare i vostri dispositivi mentre siete in vacanza nel Regno Unito. L'adattatore ha un pratico design universale che gli consente di funzionare con le prese di tipo G britanniche. È facile da usare, basta collegare l'adattatore tra la presa elettrica e il dispositivo e il gioco è fatto. Infine, il numero 1 della nostra lista. Electraline. Questo adattatore da viaggio di alta qualità è perfetto per chi viaggia in paesi con prese di tipo inglese e deve utilizzare prese di tipo francese ed europeo. L'adattatore è inoltre certificato CE e dispone di una funzione di sicurezza per i bambini che impedisce l'introduzione di oggetti estranei nella presa di corrente. Con una potenza massima di 2500 W, questo adattatore è perfetto per tutte le vostre esigenze elettriche all'estero. Questo adattatore è ideale anche per chi vive in paesi con prese francesi ed europee e deve utilizzare prese di tipo inglese. L'adattatore è certificato CE e dispone di una funzione di sicurezza per bambini che impedisce l'introduzione di oggetti estranei. Sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti i mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.